Insieme, mattone dopo mattone, partendo dalle fondamenta, costruiamo il nostro futuro. I futuri professionisti dell'enogastronomia e dell'ospitalità alberghiera. Nell'istituto alberghiero è possibile scegliere tre indirizzi. Accoglienza turistica. Servizi di sale vendita. E l'enogastronomia. Tali percorsi fermotivi triennali sono finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale. Un diploma che dà solide basi per la professione sanitaria. Impegno e passione per regalare un sorriso a tutti. Denti sani per una vita sana. Denti sani per la scuga. Per chi è affascinato dalle macchine e dal loro funzionamento. La tecnica è un gioco di geometri. Lo studio della civiltà classica è della cultura omanistica. Scoprirai le gioie degli esperimenti scientifici. Il percorso ti permetterà di essere preparato sia dal punto di vista omanistico che scientifico. In una società multiculturale le lingue diventano fondamentali. Attosando i libri. Un sottotitolo. Un ecco figli. Un caratteristico. Un sottotitolo. Un sottotitoli. Un sottotitolo. Al liceo linguistico vi ha la possibilità di conseguire due diplomi, uno italiano e uno francese. Il nostro istituto attua percorsi di integrazione tra formazione e mondo del lavoro. Il PCTO prevede percorsi tecnico-operativi per l'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali articolate. Visite aziendali, stage presso aziende nei vari settori, incontri con professionisti del mondo del lavoro e diversificati a seconda degli indirizzi. Nel nostro istituto vengono attivati dei corsi extracurriculari finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche e linguistiche. Per gli adulti è possibile conseguire il diploma di manutenzione e assistenza tecnica e di enogastronomia, frequentando lezioni serali. Quindi, mattone dopo mattone... Costruisci anche tu Il tuo futuro L'istituto Luigi Grandallo ti sta aspettando. Il tuo futuro Del tuo futuro